Buongiorno a tutti, venerdì 6 ottobre, thanks God, it's Friday 7.04, oggi iniziamo prestissimo, c'è più tempo per conoscerci, per sapere bene cosa fate voi, per mettervi un po' di buona bella musica e tutto questo dove avviene e come avviene caro il mio Lorenzo Masieri? Avviene qui su Crystal Radio, 96.2 in FM, in streaming, sull'app da Plus, nella vostra autoradio, cosa ho detto? Sito, 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 giusto. E soprattutto se ci volete anche vedere siamo in diretta sugli account di Milano News, su YouTube e su Twitch. Insomma non potete non trovarci come dico sempre, se volete veniamo anche a casa vostra a farvi la trasmissione in diretta se per caso avete voglia di ospitarci nel salotto di casa vostra o nell'antibagno, noi siamo... Facciamo anche matrimoni. Sì sì, feste, matrimoni, battesimi e funerali, facciamo tutto, nel senso, quindi siamo come The Funeral Weddings Band, quella di Goran Bregovic, per ogni evenienza, per ogni occasione noi ci siamo, siamo qui appunto su Crystal Radio, potete scriverci al 331-7853-555, numero di Whatsapp, qui potete mandare foto, video, audio, un po' tutto quello che vi va e soprattutto condividere con noi insieme per passare questa mattinata insieme, l'ultima mattinata della settimana, poi in realtà per molti noi, ah grazie a Dio, venerdì, vabbè vabbè, però c'è tanta gente che lavora anche sabato e domenica, quindi vi facciamo un grande augurio per il weekend che viene e vi diamo anche un po' di bella e buona musica qui su Crystal Radio, Nightmares, Brescia, pinguini tattici, nucleari, 7 e 09, Crystal Radio, benvenuti di nuovo a Good Morning Milano, siamo qui per raccontarvi un po' la mattinata milanese, la città, le informazioni, grazie anche ai giornali che vengono sfogliati dall'ottimo e bravissimo, Lorenzo Mazzini, gentilissimo, prego, 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 venerdì sei, oh, dicevo, andremmo rimasti che ti faccio, no vabbè, allora dammi dell'eclettico, bravissimo, stavo proprio per dire dell'eclettico, ho visto, oggi venerdì sottobre 2023 riparte il Fridays for Future, scenderanno in piazza, ricordiamo che come sapete, dai, che come sapete è un movimento, sono delle manifestazioni in maniera da sensibilizzare sostanzialmente con sul cambiamento climatico e sul fatto che si debba prendere, sostanzialmente loro chiedono interventi immediati, cioè quello che fa il Fridays for Future, oppure se ci, no, non lo dico, non lo dico, non lo dico, non lo dico, questa volta quando ti autocensui sono della tua parte, perché chissà cosa vuoi dire, no perché quando stai, anche quando andavo ancora alle superiori c'era già il Fridays for Future, diciamo che molti andavano, scusa, sì, sei giovane, molti, diciamo, magari non si chiamava Fridays for Future, ma si chiamava in un'altra maniera, molti andavano, diciamo, per far la cavallina, sì, per fare sega, far la cavallina, far bigiare, come è che si dice? Penso che dagli anni 40 in poi, anche tra i partigiani c'era qualcuno che andava per bigiare, come dire, è un po' insito nel nostro fare da studenti un po' cazzoni, diciamoci la verità. A parte che adesso si dice balzare, saluto Elisa Balzarotti, la nostra responsabile dei social di Milano News. Sarà un'iniziativa diffusa come tutti i Fridays for Future, più di 35 città italiane, appunto un movimento per la giustizia climatica scenderà in piazza alle 9.30 di questa mattina nel largo Cairoli. 9.30 largo Cairoli? Ok, sarà anche Roberto sicuramente. 9.30 largo Cairoli, quindi la manifestazione di Fridays for Future, non è l'unica manifestazione però dei questi giorni, giusto? Invece domani, sabato 7 ottobre, sono attesa alcune migliaia di persone, dice Milano Today per una protesta sotto Palazzo Lombardia, prevista per le 14 appunto di domani, dal titolo, diciamo, giù le mani dei santuari e si riferisce alla recente uccisione dei 9 maiali. Forse, probabilmente, infetti è quella la fine che fa. Sì, insomma, diciamo che c'è stata un po' un'azione di forza della politica regionale, una bella presa di posizione, brutta presa di posizione, anzi, da parte della regione Lombardia con un atto veramente di forza che ha fatto uccidere dei 9 maiali che erano in un rifugio separati da quelli, separati da tempo, da quelli invece infetti che giustamente andavano già abbattuti. Soprattutto quello che protestano e quello che appunto sono le modalità. I manifestanti vogliono protestare e sono sulle modalità. Pensate che sono stati cacciati fuori dal rifugio i proprietari di questo rifugio perché così la polizia, o meglio l'ASL, potesse fare quello che voleva all'interno solo grazie a delle telecamere nascoste inserite dentro da un'associazione che aveva snasato la situazione, si è riuscito a sapere poi quello che è successo, tra cui, in me le immagini, dei proprietari presi di forze, buttati fuori dalla loro proprietà. C'è il fatto che non siano stati sedati, ma uccisi, comunque. Una situazione un po' bruttina che, insomma, non è una cosa bella da vedere, a prescindere da come la pensiate, maiali sì, maiali no, vegano, non vegano. Andiamo a parlare del traffico invece adesso, luce verde. Rocco Ant, Anamena, un passo dalla luna. 7 e 16 minuti, questo è Cristian Radio. Io sono Fabio Ranfi, qui di fianco a me Lorenzo Masieri e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Siamo qua ancora con un po' di notizie, giusto, Lorenzo? Volevo ritornare un attimo su Fridays for Future, perché, continuando a leggere la notizia, diremo oggi 9.30 a largo Cairoli. Gli organizzatori fanno un passaggio preciso su Milano e dicono a Milano, la città metropolitana di Milano è un'enorme macchina del greenwashing, l'abbiamo già sentito tante volte, presentandosi agli occhi del mondo come una metropoli moderna, all'avanguardia, giovane e green, ma nasconde il suo vero aspetto di una città esclusiva ed escludente, matrice di una gentrificazione inarrestabile. L'area di Milano è in cima alle classifiche europee delle città più inquinate, eccetera, eccetera. Beh, sì, 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 sì. Il famoso modello Milano che stiamo dicendo incomincia a scricchiolare, incomincia a far vedere le sue pecche, le sue pieghe sporche. Due giorni fa, Sala, se non sbaglio, nella manifestazione dei tot anni per la politica... 163. 163 anni, poi la politica locale in Piazza Duomo ha detto che il modello Milano non si è fermato e continua a lottare, una roba del genere. C'era qualche titolo... Continua e lotta insieme a noi, come si diceva una volta. Così non sembrerebbe però per buona parte della città, caro il mio sindaco, quindi magari sentiamoci un attimo così cerchiamo di capire davvero se questo modello Milano funziona o no. 3317853555, Whatsapp, grazie ad Alberto per il buongiorno, buongiorno a Fabio e Lorenzo e a tutti i cristallini all'ascolto e soprattutto buon weekend. Grazie mille Alberto, potete fare come Alberto, 3317853555. Fai come Alberto, scrivi un Whatsapp a Milano News, a Cristal Radio e a Good Morning Milano. Io stavo dicendo che il modello Milano in quel caso lì era riferito, data la circostanza per la questione sicurezza. E recentemente, adesso mi ricordo dove avevo letto, che la vicinale sicurezza a Milano è fortemente legata alle aspettative che i milanesi hanno della sicurezza. Ossia, se pago tot mila euro al metro quadro, che abbiamo visto che è il doppio rispetto alla media regionale, la mia aspettativa di sicurezza è di una città, come direbbe il nostro amico Paul Paul al top. Al top. Ma infatti il problema qual è? Che se io pago il doppio una casa rispetto a Biassono, che mi sono andato in mente una città della Monza e dell'Abrianza, ovviamente le aspettative salgono e quindi mi aspetto che la pattumiera sia sempre portata via, che le strade siano sempre pulite, che ci sia la sicurezza e tutte delle cose che per buona parte abbiamo a Milano. Faccio l'esempio della raccolta differenziata, fantastico, funziona benissimo il sistema della raccolta differenziata, i sacchetti in giro da patumiera non si vedono più, non abbiamo mai avuto scene che ricordano magari altre città più blasonate o più capitali di noi, ma invece la sicurezza è difficile da concepire, perché ovviamente poi non è che la notizia qual è? La notizia è se io ti rapino, non tutti i giorni in cui non ti ho rapinato, non so come dire, quindi ovviamente la percezione è più alta e si hanno le aspettative molto molto alte. Il tema sicurezza è un tema complicato, abbiamo visto che nei giorni scorsi sono intervenuti mettendo questo, com'è che l'hanno chiamato Gabrielli, cos'è il sovrintendente? No, è tipo il delegato al sindaco per la sicurezza e la coesione sociale. Quindi vedremo se funzionerà, magari dobbiamo lavorare anche sulle nostre aspettative. La destra milanese parla di commissariamento, di granelli, è sempre lì il problema, la lotta politica da una parte all'altra su un tema che resta tutto. E come dice il buon Lorenzo, infatti la sicurezza è superpartes. E' superpartes. Come superpartes è la musica che mettiamo qui su Crystal Radio, The Belowed, Sweet Harmony. Che salto nel passato, Sweet Harmony, 1993, The Belowed, l'ascoltavo a Brighton quando facevo una vacanza studio, pensa a questo, alle medie. Sei andato a Brighton? Sì, alle medie ero a Brighton. Adesso il Brighton è ritornato famoso per vicende calcistiche. Ah, no, all'epoca era solo uno dei centri della movida gay nel mondo. Sì, sì, e basta. Però non lo sapevo ancora in realtà. Io stupidamente mi sono perso tanto divertimento, evidentemente. Ero solo alle medie, quindi certe cose non le praticavo. Le scoperte dopo. Le scoperte dopo, eh sì, ahimè. Invece la scoperta è che siamo qui su Crystal Radio, anzi, ma che scoperta è? La scoperta è che su Crystal Radio c'è sempre la bella musica, parte subito perché siamo già arrivati alla fine della nostra mezz'ora, quindi dobbiamo dare la linea a una piccola pausa, pubblicità, come dice il super vissuto. E poi siamo qua di nuovo con Lorenzo Maseri. E Fabio Ranfi, a dopo. Good morning Milano. Buon amore, Annalisa, 7.34 minuti, ben ritrovati qui su Crystal Radio. Parlando di musica, caro mio Lorenzo, ieri era il click day, giusto? Eh sì, ieri era il click day e che click day? Ma cosa, per il bonus trasporti? No, meglio. Per il bonus biciclette? Meglio. Per il bonus badante? Beh, questo non avrei bisogno. No, non ti permettere, non ti permettere. Io non avrei bisogno. Ah tu, io, 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 io. Ah no, ma ce l'ho già, sei tu? Il rocker di Zocca. Ah, cos'è? Il click day di che cosa? Il click day del rocker di Zocca. Era il click day per poter andare a vedere queste prime cinque date. Dico prime perché tra quelle di San Siro e l'ultima di Bari, in mezzo ci sono due settimane e mezzo, al momento altri concerti a San Siro. Si chiama RSA quel momento lì, non si deve riprendere un attimo. Io penso che abbia prenotato San Siro per due settimane tutte. Ah, dici, dici. Comunque parliamo di Vasco, parliamo di Vasco. Concerti a giugno, giusto? Concerti a giugno. Giugno 2020, e beh, per forza. Sì, non nel senso, il prossimo giugno vangano più di sei mesi. Sì, è molto difficile prendere biglietti anche quest'anno. Qualche polemica, assolutamente non del sottoscritto sulla questione dei biglietti del Prato Gold che sono stati resi accessibili solo a chi paga una quota annua nel fan club. E' una settimana che me la mena fuori onda con questa cosa qua, sappiatelo. Cosa ne pensate? 331-7853-555, l'esclusiva zona del Prato Gold, che è quello davanti. Quello davanti, giusto. Quello che traiamo gli sputacchi di Vasco. Quello che traiamo gli sputacchi di Vasco in faccia. E' stato riservato ai soli soci del fan club. Credo, o tutti soci, non è che potete essere associati il giorno prima per poter accedere al Prato Gold. Ai soci del fan club. Lorenzo Masieri ha praticamente aperto una petizione su change.org perché, oddio, scandalo. Condividete, gente, condividete. Giusto? Cioè, scandalo a corte. Con l'uno al posto del punto esclamativo. Sì, infatti. No, più che altro, già, io non dico di voler il pratone dei concerti che vedo, purtroppo, per motivi anagrafici, solamente su DVD. Ricordi con la volta dell'80, con bombarle, San Siro, arrivava un certo profumo fino a impiazzare l'otto. Questa è la frase che dice chiunque avreste visto questo stato lì. Chiaro che vorrei il pratone, rimanendo in tema, di fronte del palco inizio anni 90. Purtroppo, purtroppo, no. Per ragioni di sicurezza c'è la questione di dividere il prato, eccetera. Va bene, però rendiamola accessibile a tutti. E invece no. E invece no. Anche perché oltre al Prato Gold c'è questo famoso early entry. Early entry, cioè è come il fast lane all'aeroporto. Esatto. Entro prima. Entri dieci minuti prima. Come dieci? Dieci minuti. Ah, non il giorno prima, la mattina faccio un tè con vasco, due biscottini sotto San Siro. No. Poco prima. Quarto d'ora prima massimo. Sì, 230 euro, 240 euro. Però ti danno anche una maglietta. A Roma direbbero. Giusto. Insomma, una maglietta. Si spera della tua taglia a quel punto anche. Vorrei capire se ce l'hai. Quando compri il biglietto puoi dire la taglia, perché sennò non le fanno mai della mia taglia. Sono sempre strette, mi vanno le magliette promozionali. Comunque ce l'hai fatta a comprare i biglietti? Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta a Prato. Adesso li rivendi? Assolutamente no. Mi li tengo stretti. Perfetto. Prato silver. Prato normale. Prato normale. Prato normale. Prato per noi comuni mortali. Che però non è neanche Prato, perché per terra c'è la roba di plastica bianca, la salzina. Mentre, no, l'anno scorso a parte che l'ho riuscito a prendere il gold, perché è da quest'anno che c'è questa roba qua. Ecco, perché c'è il dente avvelenato. Due anni fa a Torino il Prato era realmente Prato, perché è all'Olimpico di Torino. Non so per quale ragione non hanno coperto il Prato. Hai visto? Perché hanno i soldi, tanto poi lo rifanno. No, credo che abbia fatto schifo la prima di campionato. Non lo so. Ma magari appunto devono rifare il Prato, ma trovo bene. Tanto da rifare. Allora, molto più comodo sedersi lì, che sulla plastica, che sta tutto il giorno al sole. Perché diciamo la verità, il concerto inizia a che ora di solito? 21, 21 e 15. A che ora si va? Noi a Torino siamo arrivati là alle 2. Alle 2. Già dentro lo stadio? No, fuori. Ah, ok. Perché le porte aprono alle 4. 3 e mezza, 4. 5 ore prima? Sì. 5 ore prima? Più che altro è anche il viaggio. Questo è essere giovani, sappiamo che Vasco lo fa fare a tanti. Lo fa fare a tanti, di tutte le età in realtà, non solo giovani, ma di tutte le età. E comunque devo dire che qua, appunto, Milano News, tra parentesi, è vicinissimo allo stadio di San Siro. Li vediamo quando arriva il popolo del Blasco. È interessante. Attropologicamente parlando molto. Sì, sì, sono giornate divertenti, c'è da dire. Si sente allegria, divertimento ovunque. Si sente molto allegria. Cosa che, devo dire, nessun altro riesce a fare. Non esiste nessun altro che riesce a smuovere questo, appunto, come lo chiama lui, il popolo del Blasco. Perché così, no? Non dire transumanza di fan del Blasco. No, 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 non userei mai la parola di transumanza. Mi viene in mente adesso che però questa cosa del popolo è stata trasferita, invece, su X-Factor, che tutte le volte, quando iniziano, è popolo di X-Factor. Non lo sapevo. E chissà se... Pensa che c'è chi diceva, popolo di striscia. È vero, ecco. Quindi chissà se tutto arriva invece da lui, del famoso popolo del Blasco. E comunque ne abbiamo parlato, ne abbiamo ripetuto. Tra parentesi, fino ad oggi, abbiamo visto che quando parliamo di Blasco Rossi, parte Liga Bue. E allora adesso abbiamo invece messo Blasco Rossi. Bollicine. Blasco Rossi, Bollicine, 7.45 minuti. E anche qua in redazione è partita la Vascomania. Sì, sì, sì. C'è già parte della redazione che sta cercando di comprare i bietti in questo istante. Non vi diciamo su che sito andiamo, anzi, vi diciamo un altro così tutti andiamo in tasso di quel sito e noi siamo di qua. Comunque pensa che Vasco, il momento in cui salirà sul palco, va a 72 anni. Ho visto di peggio, sai? Alice Cooper. Ah, quanti anni c'aveva? Alice Cooper mi sa che adesso ne ha 75-76, eh. Grande Alice Cooper, ho visto già la sua versione di Dicello Scasso per Starsi, ne abbiamo già parlato. 75 quest'anno. 75? No, l'ho visto a 73 anni, perché l'ho visto due anni fa. Ho visto bene che Alice Cooper è del 4 febbraio e Vasco Rossi è del 7 febbraio. 7 febbraio del 52. Sono coetanei di mese, nel senso, di anni no, appunto 48-52, ma anno di nascita in realtà. Ma sono tutti i due di febbraio, chissà cosa c'è. Tra febbraio e marzo ne sono andati tanti, eh. Battisti, Lucio Dalla, anche se ne sono andati il suo giorno. Interessante, interessante. Comunque vai, andiamo avanti, hai qualche notizia? Sì, perché ormai abbiamo, tra virgolette, sbaccato, come si dice. No, perché abbiamo dato delle informazioni inutili su come poter vedere, poter andare nel giugno del 2024, appunto 4 date, a San Siro, a vedere, ascoltare Vasco Rossi. E ritornando sulla rassegna stampa, domani partono i lavori di riqualificazione di Corso Concordia, in riferimento sostanzialmente alle piante, agli alberi che hanno subito delle... oddio, eh. No, le piante hanno subito niente, però sono cadute. Sì, però non verranno riqualificate, diciamo, solamente quelle cadute, ma anche quelle a rischio caduta. Manutenzione del verde. Esatto, da domani, da sabato 7 ottobre, perché dei 16 alberi rimasti in Corso Concordia, 5, dopo le varie verifiche, sono stati classificati come ad estrema propensione al cedimento. Bella come definizione. E da altri 4 ad elevata propensione. Benissimo, benissimo. Propensione al cedimento. Come si dice bene, ma non benissimo. In questo caso. Esatto, e quindi partiranno dei lavori di riqualificazione del viale alberato, sostituzione dei vecchi alberi con adulti. Dicevi, Corso Concordia. Corso Concordia. Che tu sai benissimo, estere? Non ne ho idea dove sia. E non so dove sia. Zona est di Milano, da parte della circonvallazione interna, va in fuori, dai parti... E quello che poi diventa, più avanti, Viale Argonne, da quelle parti di là. Ah, ok. Chiaro? No, Viale Argonne è dove c'è la cosa M4. No, so benissimo perché lo conoscivi ad Argonne. No. Per un locale solo. Io... Ti dico Blender? Zona est di Milano esco difficilmente. Ti dico Blender non ne sai niente. Solo la brate. Grande locale universitario della mia epoca, diciamo. Sì, forse effettivamente... Non hai fatto l'università. Come no? Ah, no, è vero che tu... È vero che avete... Comunque micidiale, o più si è importanti in questo paese, più si è ignoranti. Perché? Ma non ho capito. E io e te siamo qua, importanti a fare la radio e tutto e... Non siamo... Tu non sei ancora laureato. Come è certo che sono laureato? Tu mi hai detto che non hai fatto l'università adesso. Ti ho detto che tu non hai fatto l'università. Ah, io non ho fatto l'università, ma tu sì l'hai fatta, però... Ti stai facendo ancora... Sei pure venuto alla mia laurea. Sì, ma devi fare l'altra, quella serie, come dice lei in versetti. Hai fatto il 2 o il 3? Cos'è il 2 o il 3? Ah, sì. Sai che abbiamo gente che non ha ancora capito come funziona il nuovo ordinamento. Comunque è bello vedere come ci conosciamo tanto, come io vado a delle manifestazioni che penso essere manifestazioni in piazza e invece era semplicemente la laurea di Lorenzo Masieri. Io pensavo fosse una festa all'università dove ero venuto. Adesso me lo ricordo anche, sì, ero seduto di sopra, pensavo fosse uno spettacolino. Se fosse Vasco. Vasco live in statale. No, che era la recita di fine anno. Infatti ho fatto il video dicendo, quello è il mio figlio. Infatti c'era il tuo padre che diceva, no, quello è il mio figlio. Dobbiamo parlare, ma adesso no. Tornando sulla rassegna stampa, notizia molto importante. Dopo numerose richieste, soprattutto da Carlo Monguzzi, che ormai citiamo tutti i giorni, e non solo, di Europa Verde, consigliere di Europa Verde, e il consigliere della lista sala, Enrico Fedrighini, dopo aver chiesto incessantemente i nuovi risultati delle auto entrate o meno in area B. Ieri, giovedì, 5 ottobre, il comune di Milano li ha rilasciati. E cosa viene fuori, Fabio? Sono diminuite le auto? Non lo so. Sicuramente sì. 1,3% in meno. Qual è la questione? Cioè, un'auto in pezzettino ogni 100 auto. Infatti, Milano Today titolo, le auto praticamente non diminuiscono, ma quelle che entrano sono meno inquinanti. Per esempio, le diesel hanno subito una discesa importante. Ok. Perché? Perché la gente ha cambiato macchina. Perché in realtà, ho letto che Monguzzi dice, questo abbassamento degli ingressi delle auto più inquinanti, in realtà è in linea con la media della Lombardia. Quindi non è che si entra niente a Rabi o a RAC, ma è solo, semplicemente, perché la gente ha cambiato le auto a Milano come a Biassono, che stamattina diventa il nostro punto di riferimento della Lombardia, o come a Sondrio. Cioè, è uguale. Salutiamo, anzi, come a Chiavenna, salutiamo gli amici della Val Chiavenna, che gli vogliamo tanto bene, perché hai mai provato i pizzoccheri della Val Chiavenna? Non credo. Eh, male, perché sono molto, molto buoni. Meno famosi, dei famosi pizzoccheri della Valtellina, ma altrettanto buoni, forse più gustosi a volte. Ti do uno scoop, perché domani torno in Polentoteca e so che qua c'è una gag. Uh, dopo ne parliamo, dopo ne parliamo. E lei è Spagna e questa è Easy Lady, 8 e 10 minuti, questo era il Crystal History. Ricordiamo che tutte le ore, tutte le ore, allegria, allegria amici di Crystal Radio, tutte le ore c'è il Crystal Radio. Sembri Fazio? Fazio lo fa bene. Anch'io. Quindi, no. Tu sembri Fazio che imita Mike Buongiorno. Mike Buongiorno, preferivo essere un Fiorello che imita Mike Buongiorno. Ah, sai, a me piace di più Fazio. Più Fazio, va bene. Caro il mio Lorenzo, piccolo bambino, sei qui a Genius. Come stai, Lorenzo? Quali notizie abbiamo? Sai leggere? Ha la tua piccola età? Abbiamo delle notizie... Ti hanno fatto così piccolo per metterti nel bagagliaio dell'auto? Perché? Mi fermo. Va bene. Cioè, anzi, non rispondo... Non rispondo, mi abbargo della facoltà. L'arma più forte è l'indifferente. Perfetto. Ah, con me si funziona benissimo, mi arrabbio come non so che cosa, poi. Fridays for Future, stavamo dicendo, largo Cairoli, 9 e 30, inizia la manifestazione, numerose linee deviate, ci fa sapere, ATM, a partire dalle 9 e 30, infatti, devieranno l'1, il 2, il 4, il 9, il 10, il 12, il 14, il 33, il 43, il 57, il 85 e il 94. Ok, mi scusi, è uscito il 12? Il 12 si è uscito. Ah, ok, grazie, grazie, ho fatto ambo, ho fatto. E poi, già che siamo in tema di... Di tombola? No, di... Ah no, di manifestazioni? Di linee deviate, eccetera, per manifestazioni. Domenica ci sarà la Pitta Rosso Pink Parade. No, che non è una corsa così, è una corsa non competitiva, sostegno della ricerca italiana sui tumori tipicamente femminili, promossa da Fondazione Umberto Veronesi. Allora, nulla in contrario, anzi, che vengano le manifestazioni soprattutto con questi scopi. Però una domanda, ma perché dobbiamo sempre correre? Cioè, non c'è un altro modo di fare la famosa vecchia beneficenza di una volta, fare del bene agli altri senza correre? Cioè, non ho capito. Non per forza corere. Cioè, è una bella manifestazione di lancio del peso. Allora, anche io non corro, a meno che non mi inseguino non corro. Un bel partitone di bocce. Ma quanta getta tirerai con una partita di bocce? Per la lotta contro il cancro. Potrebbe funzionare, non ho niente. Recente, vabbè, innanzitutto sto leggendo un post di Lamberto Bertolè, assessore al welfare del Comune di Milano. Corre lui? Beh, ha messo una foto in tenuta, quindi immagino di sì. Ah, quindi molto bene corre anche lui. Dal 2014 a oggi, perché siamo alla decima edizione, i fondi raccolti hanno permesso di sostenere il lavoro di 2.000 ricercatori e ricercatrici e per dare il proprio contributo all'iniziativa è possibile, appunto, iscriversi su Pitta Rosso. No, è importante, davvero, adesso, basta di scherzi, se avete voglia di correre iscrivetevi. Ma voi vi dico la verità, queste cose qui quasi sarebbero da iscriversi anche se non avete voglia di correre. Poi vi iscrivete così, so, al divano, alla ricerca, poi io state a casa sul divano o sulla balcone a vederli passare sotto. Però è giusto, in realtà, sovvenzionare la ricerca, la ricerca scientifica, che soprattutto è complicata da capire, perché ci vogliono tanti soldi per la ricerca, davvero, davvero, milioni, milioni di euro. E magari tu, nella tua vita, ti auguro di non vederne mai i frutti di questa cosa, ok? Ma vi assicuro che, e tanti di voi magari all'ascolto, ahimè, hanno avuto a che fare con questo tipo di malattie, e con questo tipo di disagi e sappiamo quanto, negli ultimi anni, la ricerca ha portato a, veramente, a migliorare notevolmente le cure, a migliorare notevolmente la vita dei malati di tumore e ad avere delle risposte anche molto, molto più dirette, soprattutto alla prevenzione, legata alla prevenzione. Quindi la ricerca scientifica, la ricerca scientifica e sanitaria è fondamentale, in questo caso, e quindi davvero, a parte gli scherzi, corriamo tutti a sovvenzionare, corriamo tutti a dare una mano alla ricerca scientifica. Se mi permetti adesso, dopo aver detto cose serissime, di abbassare un attimo il termine della conversazione. Rutto libero! Recentemente ho preso in considerazione di correre. Sì? Perché? Hai visto l'autobus passare. No, perché una piccola catena di birrerie a Milano ha organizzato la Beer Run, qualche settimana fa, in cui con 30 euro, se non sbaglio, tu correvi con la tua maglietta, eccetera, e poi avevi nelle quattro sedi, intorno alla circonvalorazione del birrificio, quando arrivavi il tavolone con le birre, tu ti facevi il tuo pit stop e finivi con quattro birre, cinque birre, non mi ricordo, e dieci chilometri. Sì, però dovevi riuscire a beccare la strada dopo la terza, quattro birre. Molto divertente. Ok, l'alto benefico era solo tuo. L'alto benefico era quello del tuo ipatologo. Infatti, poi dopo, l'anatomopatologo, dopo quattro giri, faccio tre giri di Milano. Comunque, no, ma infatti, effettivamente, c'è da fare, questa cosa della corsa e della sfida sportiva funziona su tutti e tutti i livelli e funziona anche e soprattutto nel mondo della ricerca scientifica e poi, appunto, nella beneficenza, chiamiamo questa parola che non mi piace tanto, però, insomma, adesso sono le 8 e 15, non mi viene una parola diversa da usare, ma comunque, diciamo, dell'aiutare il prossimo. 8 e 15 minuti, appunto, come vi dicevo poco fa, sempre qui su Cristal Radio, di venerdì 6 ottobre, 331-7853-555, grazie a Marco e a Carlo che ci hanno scritto entrambi un whatsapp, augurandoci buona giornata, buona giornata a voi, e vediamo adesso, magari questa cosa sulla birran, potrebbe arrivare qualcuno che dice, io ho fatto il record, ho fatto il record. Ho visto che c'era tantissima gente, quindi sicuro che magari qualcuno sarà all'ascolto. Peggy Goo, I Goes Like Na Na Na, beh, pensa che brainstorming e tempeste di cervellice hai voluto per fare questo titolo, na na na. Comunque, siamo sempre qui, 2023, l'anno di questa canzone, pensa, mi è venuto a aspettare fino al 2023 per avere una canzone che si chiamava Na Na Na, 8 e 19 minuti e siamo qui in diretta su Cristal Radio, ma vi ricordiamo anche e anche su Milano All News, sul Twitch di Milano All News, che tu c'hai Twitch? Sì, sì, c'hai Twitch, che c'hai Twitch? No, non ce l'ho Twitch. Hai mai provato Twitch? No, no, Twitch, Twitch non è un'altra cosa. No, no, Twitch non ha prezzo, non ha prezzo. No, no, invece non è male, non puoi dire che non ha prezzo la roba che facciamo, ma io ti piudo il microfono. Noi facciamo informazione, non mi far dire cose, guarda, perché è su Twitch, guarda, non mi far dire cose. Non mi far dire cose, è su Twitch, sono quelli che giocano, e ci siamo noi la mattina, dalle 7 alle 9, qui in diretta come sempre, dal lunedì al venerdì, negli studi di Milano All News, in quel di San Siro, appunto per aglietarvi la mattinata e raccontarvi un po' tutto quello che succede nella nostra città metropolitana. Ho detto che Milano All News è in quel di San Siro, quindi ti ho alzato la palla, vai, schiacciarete. Beh, cosa vi aspettate ragazzi, se no l'ennesima notizia su San Siro. Ragazzi, chiedo perdono se c'è qualche over 30. Ah no, pensavo se c'è qualche ragazza, semmai. No, vabbè, quello sicuramente ci sarà. Quindi ragazzo con l'asterisco, nel senso. Andammi a far parlare. Ecco, mamma mia, è un reazionario sto ragazzo, è un reazionario. Milano Today, la prima partita del Milano nello stadio di San Donato milanese, l'obiettivo è il 2028. L'ho detto l'amministratore delegato del club, Giorgio Furlani. Ok, allora, sappiate questo, lo dico qui, l'obiettivo di Crystal Radio è conquistare il mondo. È uguale, cioè, è come dire. Ah, e poi mamma mia, il rendering, che bello. Fammelo vedere. È sempre il solito, è sempre il solito. Bellissimo. Una vasca da bagno, letteralmente una vasca da bagno, di fianco a uno scalo a San Donato milanese, mi pare che ci sia una ferrovia, intorno a qualche albero. Qualche? Ci hanno messo a mezza Amazzonia. Sì, intorno. Non esiste un posto al mondo con così tanti alberi, se non su quel rendering lì. Neanche se lo metti in mezzo al bosco in città. No, neanche, neanche se lo metti lì. Comunque, vabbè, è veramente ormai diventa surreale questa situazione. Chissà cosa direbbe Radio Monguzzi, in questo caso, di questa nuova notizia. Ma un giorno ce la faremo e sarà qua. Sì, 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 no, no, dobbiamo portarlo qua. Non credo che... Anche un po' per pacondicio, perché anticipiamo che settimana prossima ci sarà Valerio Pedroni, consigliere comunale del PD, martedì, mentre venerdì ci sarà il capogruppo, al Consiglio di Milano, Leghista, Alessandro Verri, che verrà qua, e parleremo principalmente di sicurezza, parleremo appunto chiaramente della nomina di Franco Gabrielli, poi delegato al Sindaco. Lo chiediamo tutti e due, così vediamo cosa ci dicono, poi mettiamo in confronto le risposte. Sì, e poi parleremo anche di mobilità, principalmente, ma poi chiaramente faremo un po' il punto su questo giro di Boa, perché siamo arrivati più o meno al giro di Boa. Alla metà del mandato, l'abbiamo parlato anche con Gaia Romani, con un'altra cosa ospite, e siamo arrivati ormai alla metà del giro di Boa, sì, 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 sì. Comunque, si continua anche con la buona musica qui su Crystal Radio, vi ricordiamo Crystal Radio FM96.2 e Dub Plus, oppure sul sito internet crystalradio.it, l'applicazione iOS e Android, e poi ovviamente il video invece su il tanto vituperato Twitch da parte di Lorenzo Masieri, però insomma su milanoallnews.it, slash, no, scusate, twitch.com slash milanonews, vedete la diretta. Comunque, se andate sul sito trovate tutto quanto e potete anche rivederci dopo in differita. Infatti vediamo già gli ospiti al di là del vetro, poi tutti i contenuti video li troverete sui nostri social. Perfetto, adesso andiamo in pausa, quindi piccola pausa, pubblicità, come dice sempre il grande Blasco, e adesso invece anche un po' di pausa e poi ci ritroviamo una canzone e tutto insomma... Qui c'è Liga 2? No, non c'è Liga 2. Angelina Mango, ci pensiamo domani, invece no, noi ci pensiamo oggi, li vedete già qui in studio con noi, i nostri ospiti Filippo Varenti e Emanuele Breveglieri, scusa Emanuele, di Smonting, già mi fa paura però, non ci smontate niente qui in studio, vero? Assolutamente. Boh, vediamo, magari c'è qualcosa da smontare. Mi piace, perché se per caso smontate, dove vanno le cose che smontate? Bella domanda. Allora, le cose che smontiamo vengono selezionate per tipologia di materiale e poi vengono conferite nelle discariche in maniera corretta. Alcuni pezzi li teniamo per fare dei laboratori successivi per la creazione di gioielli, di cose strane. Lampade. Lampade. Lasciamo ai bambini, perché il nostro lavoro viene fatto con i bambini, la libertà di inventare. Loro non hanno schemi e quindi si inventano di tutto con questi pezzi recuperati. Quindi in fondo, vedete, da una cosa che magari noi butteremmo una pattumia e anzi ci dà anche fastidio in casa, dai, butta la via che mi dà fastidio. Voi ritrovate da anima nuova questi oggetti, oggetti quasi sempre tecnologici, immagino, no? Oppure c'è di tutto? Un po' di tutto, ma ultimamente ci siamo concentrati su quelli tecnologici perché è il rifiuto che c'è di più. In giro, nelle nostre case, ognuno ha qualcosa di tecnologico fermo. E la cosa bella appunto è che c'è anche un risvolto sociale, anzi proprio associativo nel vostro caso, perché sono i bambini poi, è una creatività, perché viene utilizzata da parlare in questo momento, quindi i bambini che vanno a creare proprio, e chi sono questi bambini? Dove, dove, dove? Ma i bambini li peschiamo un po' dovunque. Con la loro volontà. Dalla viglio, dalla viglio. Ma essenzialmente sono studenti delle scuole primarie, cioè le ex elementari per intenderci, no? Perché io e mia moglie, che siamo i fondatori, diciamo, dello smonting, siamo educatori, lavoriamo nelle scuole, per cui abbiamo un grosso bacino. E poi anche perché questa tipologia di approccio didattico, perché alla fine un approccio tra il sociale e il didattico si presta bene, non so, andare nelle biblioteche, oppure quando si fanno eventi nelle zone. E poi il discorso che faceva Filippo prima è corretto. Andiamo a recuperare quello che i bambini hanno più vicino a loro, quindi un vecchio decoder, il videoregistratore del nonno, del papà, il lettore cd-dvd, che hanno sempre visto chiusi, ma molto spesso sono cose che, attento, si rompe, non si fa, ma a un certo punto si rompono. E quindi cosa facciamo? Li trasformiamo in strumenti didattici, perché tu devi aprirlo, ed è il discorso dell'apertura della cassa del tesoro, cosa c'è dentro? Andiamo a vedere, devi avere degli utensili e conoscere delle procedure di sicurezza per aprirlo, perché non è così semplice. Quando lo apro trovo tantissime cose interessanti, alcune proprio dal punto di vista squisitamente del design. Una scheda video è molto bella, di solito sono anche le uniche cose che sono colorate con colori molto vivi all'interno dei computer. e tra le cose che ho separato troverò sicuramente qualcosa che mi porta a casa. Ah sì, eh? Sì, i bambini, l'obiettivo è il trofeo, qualcosa che attira l'attenzione per forma, per la tipologia di materiale o semplicemente perché noi diciamo, ad esempio nei computer, il processore c'è dell'oro. Allora i bambini, gli occhi iniziano a sbirluccicare, oro. Poi spieghiamo, sì, ci sono tre atomi messi a stellina, tutti per cercare di far passare i segnali. E però loro hanno ancora nella testa oro, oro, così. E quindi quello è il loro trofeo. Quello sì. Poi essenzialmente, come diceva prima Filippo, ci sono tutta una serie di materiali che in questo momento sono importanti. Le terre rare, per esempio. Le terre rare che sono al centro di alcune ricerche per il loro recupero dai device, perché non è così facile. C'è tanto rame, c'è l'argento, c'è l'oro, che rientrano nel discorso di economia circolare che in questo momento è quello che va per la maggiore, no? Economia circolare che aiuta appunto, anzi poi oggi Fridays for Future è in piazza appunto per proprio parlare di questi temi, parlare anche del sorrisciamento globale, è appunto una delle possibilità che ci dà la società moderna di magari rallentare un po' questa caduta libera che stiamo facendo verso l'oblio, mi viene da dire, no? Sono un po' di parte sul tema. Sicuramente questo lavoro aiuta anche a creare una maggiore consapevolezza. Oh, bravissima. Allora, l'obiettivo principale è sui bambini insegnare la difficoltà costruttiva e progettuale che c'è dentro, ci sono dentro le cose. I bambini d'oggi sono, lavorano in un'ottica di servizio, voglio usare una cosa, non voglio sapere come funziona. In quest'ottica cambiare una cosa è molto più veloce, cioè più facile. Tanto ce n'è un altro, faccio un click, mi arriva il giorno dopo e si cambiano cose non rotte, ma solo perché non sono l'ultimo modello. E questo l'abbiamo toccato con mano a tal punto che noi adesso come associazione supportiamo una scuola in Bangladesh per 60 bambini fuori casta, semplicemente rivendendo il materiale che ci è stato donato e ha ancora un valore residuo, perché è inutile smontarlo, ha più valore, valorizzarlo in questo modo e devolvere tutto a questa scuola. E quindi con il rifiuto della nostra società aiutiamo il rifiuto della società del Bangladesh. Noi non prendiamo donazioni in soldi, ma solo donazioni in materiale che è considerato non più funzionale al business dell'azienda o delle persone e quindi non ancora rifiuto, ma utilizzabile e lo facciamo diventare materiale didattico per i nostri laboratori. Obsoleto, sì, la parola. Hai capito? Obsoleto, obsoleto. Hai capito? Quindi potrei benissimo a fine stagione dare dentro te, Lorenzo. Certo, dentro, vediamo, magari trovano qualcosa per rifarti fare. Sì, la prossima non mi sveglio alle 5.50, te lo dico. Svegliate a 6.01, va benissimo. Così siamo qui lo stesso insieme. Come tutte le mattine che siamo qui appunto alle 7 alle 9 a raccontarvi un po' Milano, oggi appunto in compagnia di Smonting. Continuiamo, continuiamo la nostra intervista, ma solo dopo aver dato un attimo uno sguardo anche alla musica di Crystal Radio, o meglio un ascolto, perché adesso è il momento di Sfera e Basta con Di Notte insieme a Dernia e Carl Brave. E Lusignolo cosa dice? Non era come immaginavo, disse Lusignolo. Così si chiude Sfera e Basta, 8.44 minuti. di Crystal Radio, ben ritrovati all'ascolto di Good Morning Milano con il Fido Scudiere, qui di fianco a me Lorenzo Masieri. E Fabio Ranfi. Sempre qua. E non siamo soli. No, chi c'è con noi? Filippo Valenti e Emanuele Breveglieri di Smonting. Esatto. Associazione di Milano, zona 3 siete vero? Orti Calambrate, ma l'Ortica ormai, ragazzi, c'è una zona inna adesso, lo sapete? È stata gentrificata. Eh, ormai è una di quelle zone che a murales su murales è diventata... Qualcun altro avrebbe detto che è stata rigenerata. Dipende dai punti di vista, dipende dai punti di vista. Sono tre step, riqualificazione, rigenerazione e gentrificazione. Bravissimo. Bisogna capire poi da che parte va l'asticella. Vabbè, così è. Stato il fatto che anche a l'Ortica, forse comprare casa, costa il doppio che abbia sono. La notizia di questa mattina è che a Milano paghiamo le case il doppio rispetto al resto della Lombardia in media. Quindi, pensa, c'è nelle zone centrali anche 8 o 9 volte di più. Stato il fatto che non parliamo di case, ma parliamo di cose che potreste pensare essere pattumiera, essere ormai obsolete da buttare via e invece... Potrebbero finire in un museo, perché ne stavamo parlando adesso Corrionda. Ma quanto sei bravo. Non ve lo posso dare fino a stagione. Un po' mi insulti. No, mi spiace, non posso darvelo fino a stagione. Troppo bravo, ma mi spiace, mi spiace. Questa radio, alziamogli lo stipendio a proposito a Masieri, che qui ce n'ha bisogno, che deve pagarsi gli studi anche. Dicevamo, però, che è oggettivamente vero, io perro la tua causa. Oggettivamente dicevamo degli oggetti, scusate il gioco di parole, che potrebbero anche finire nei musei, giusto? Perché cosa è successo? Sì, è successo che casualmente, mentre stavamo facendo smonti, siamo entrati in contatto con il Museo della Tecnica Elettrica di Pavia, perché a fine conti stavamo chiedendo informazioni su un pezzo che non capivamo che cosa fosse, e da lì è nata una bella collaborazione, una bella amicizia anche con il loro curatore, l'ingegner Pietra, e quindi quando ci capitano dei pezzi un po' strani, cioè che diciamo, ma questo qua, secondo, è vecchio, ma lo smontiamo, lo smontiamo, cosa facciamo, Filippo? Mandiamo un WhatsApp a Francesco. A Francesco, che ci dice, che è appunto il curatore, che ci dice, no, guardate ragazzi, questo qua veramente, no, è un pezzo che non ha un valore museale, perché stiamo parlando di valore museale, no? Oppure ci dice, caspita, questo qua figurerebbe bene nella nostra collezione, quindi noi ogni tanto andiamo a questo museo, nella Tecnica Elettrica di Pavia, e scarichiamo quello che è stato selezionato dalle cose che ci hanno dato, che erano da buttare, che erano da smontare. Posso raccontare la storia della classe? Hanno fatto un laboratorio loro in una classe, e hanno chiesto di portare del materiale. Tra questo materiale c'era qualcosa di veramente interessante, che ha attirato l'attenzione di Francesco, e ha detto portatemelo. E si è lanciato oltre, ha regalato a questa classe una visita guidata gratuita al Museo della Tecnica Elettrica, per ringraziarli di aver donato quel pezzo. Quindi qualcosa che veniva considerato quasi come un rifiuto e portato a scuola per essere smontato, diventerà un pezzo di un museo e la classe andrà gratuitamente a fare la visita guidata al museo. È fantastico, perché è l'utilizzo ottimo di qualcosa che qualcuno pensava non servisse. Infatti immagino anche il senso di protagonismo di questi bambini, che appunto non si vedono un museo che gli dice grazie per una cosa che gli viene donata. Ma perché loro hanno deciso di donarlo, perché quando noi abbiamo detto che quel pezzo aveva un valore, loro ci sono radunati, hanno fatto la votazione, hanno volontariamente deciso di donarlo. Quindi dovevano essere premiati in questo mondo. Voi premiate anche altre associazioni però a Milano, nel senso che alcune cose non vengono smontate, alcune cose non vengono donate appunto al museo, ma altre cose vengono magari semplicemente risistemate, e altre associazioni magari meno fortunate di altre che magari hanno bisogno di certi device, di certe tecnologie, voi le aiutate, giusto? Sì, perché ultimamente abbiamo notato che ci donano materiale ancora usabile, nel senso che ha ancora valore. Ce lo donano non perché è rotto, ma perché non è l'ultimo modello. E quindi noi per statuto abbiamo che supportiamo tutte quelle associazioni che hanno poco budget e devono decidere se cambiare un computer o una stampante o fare un progetto per i loro utenti. E di solito loro fanno un progetto per i loro utenti. Dico a queste associazioni di chiamarci, scriverci, perché noi ogni mese periodicamente potremmo avere qualcosa di usato, funzionante, ma se uno deve navigare in internet, mandare la mail, stampare un volantino, tutto quello che ci viene donato in questo caso è perfetto. Quindi diamo magari le coordinate per contattarvi? È info-smonting.it Semplicissimo. Semplicissimo, così uno se lo ricorda. È la nostra mail istituzionale con cui noi interagiamo con le altre associazioni. Poi c'è un sito, smonting.it, è una pagina Facebook per cui ci si può contattare. Attenzione che potete anche donare del materiale invece, ma attenzione, quale? Non siamo lanza. Non è arrivato la rotina e lo svuota a cantine. Non siamo lanza. Asciugacapelli? No. No. Perché quando lo smonti capisci tutti i cambi di colore che ha fatto la signora che gli usava. Fuori a microonde? No. Perché capisci cosa ha mangiato la famiglia. Macchine del caffè no, perché non si smontano di solito. Non sono male, però il problema è che sono tutte pressofuse. Pressofuse. Allora, smonting è una parola macedonia che sta per smontare insieme giocando. Quindi durante i nostri laboratori è fondamentale giocare e quando uno gioca si deve divertire. Se noi troviamo materiale che iniziamo a smontare e poi ci fermiamo, il bambino rimane un po' così. Quindi di solito non prendiamo neanche tablet, cellulari, eccetera, perché i bambini sono attirati da queste cose. Si buttano, smontano due cose, poi microelettronica appiccicata e si fermano. Li prendiamo, se sono funzionanti, per donarli ad altre associazioni, ma non per i nostri laboratori. Se sono funzionanti, mi raccomando, non che gli date adesso, mi fate qua i 3310 del vostro nonno con i tasti sbiaditi e il display che va solo con Snake. La cosa più deprimente per un bambino da smontare è uno smartphone. Cioè, ragazzi, voi lo aprite, ammesso di riuscire ad aprirlo, perché... Poi c'è uno schedone, tutto saldato insieme e basta, fine. Una delle cose più divertenti da smontare è un vecchio videoregistratore, una vecchia radio. Allora lì sì che ci sono delle cose da studiare. Ci sono tantissimi viti. Esatto. Perché poi noi quando facciamo i laboratori diciamo sempre di fare domande. Non è solo smontare il nostro laboratorio, è anche imparare, conoscere. Noi siamo un po' cattivelli, a fine del laboratorio diciamo, ma sapete che avete studiato? E non usiamo il termine imparato, ma studiato. E i bambini ci guardano e ci dicono... Vi denunciano per truffa. Ma no, ma non è vero. Lavoro minorile. Invece raccontiamo, diciamo, guardate, avete imparato a proteggervi con i guanti, imparato le punte dei cacciaviti, perché un bambino sa configurare un wifi, ma non riconosce le diverse punte del cacciavite e della vite. E poi all'interno raccontiamo perché quei pezzi hanno quella forma e sono fatti di quel materiale. E quindi imparano giocando. Hai capito, caro mio Lorenzo? È così, è così. Quindi smonting, seguitelo, smonting.it abbiamo detto. Poi c'è la pagina Facebook e comunque info-smonting.it se volete qualche informazione. Sono disponibilissimi, gentilissimi. Poi appunto fate i laboratori, insomma avete... Possiamo dire che c'è anche la ricerca di una sede, così qualcuno che ci schente... Sì, il nostro grosso problema è lo spazio, perché riusciamo a fare innamorare molte persone e ultimamente anche delle aziende e ci dicono, ok, nei prossimi sei mesi dismettiamo 400 desktop. Noi non possiamo prenderli perché abbiamo già riempito le nostre case. Non uno o due. Sì, so che ci sono dei matrimoni che traballano ogni tanto qua, perché c'è troppa roba nelle case. Quindi aiutate Filippo e Emanuele a mantenere la loro vita coniugale, perché qui il rischio è anche quello. No, davvero, fatevi un giro sul sito di smonting. È molto interessante tutto quello che loro fanno. Molto interessante perché soprattutto, ed è questa la porta più bella di tutte, non lo fanno per se stessi, ma lo fanno per i bambini, lo fanno per le altre associazioni di questa grande città che è Milano. E non solo, perché anzi avete ispatriato anche nel museo di Pavia. Quindi insomma, museo della tecnica elettrica. Sì, sì, è fantastico. Bellissimo, andate a visitarlo se vi capita. Sì, sì, sì. È veramente un bel museo. Io ci vado subito. Adesso dovremmo salutarci, ma prima ci sono i Maleskin. Poi li salutiamo sulla sigla finale, dai. Ed erano i Maleskin alle 8.56 minuti. 8.56 minuti che fa la rima con? La fine di Good One in the Last. No, era questo, bravissimo. Vedo che hai colto al volo la mia provocazione, che non è una provocazione. E siamo qui a salutare chi? Emanuele e Filippo di Smonting. Grazie davvero per essere qua con noi. Grazie a voi. Grazie per averci raccontato una bella storia, ma soprattutto grazie per aver fatto una bella storia. Cioè, come sempre... Posso chiedere un'ultima cosa? Puoi portarci a dei microfoni, a delle cuffie da smontare, per andare via? Vabbè, adesso chiediamo. Allora, presidente di Cristal Radio, so che è in ascolto. Io gli do i microfoni e poi dopo vediamo in qualche maniera. Diamoli. Cioè, proprio i bambini, come fanno a non divertirsi? Deve essere divertente un microfono dentro. C'è il magnetino, quelle cose lì. Quindi adesso è abbastanza divertente. Grazie mille davvero. Smonting.it, giusto? Sì. E noi quando torniamo invece? Ci vediamo domani. No, è venerdì, è venerdì. Mamma mia, domani si dorme, meno male. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, qui in diretta su Cristal Radio, 96.2 FM, streaming da Plus e tanti altri posti. Abbiamo i microfoni! Mi è arrivato il messaggio! Adesso ce lo dico. Dobbiamo rientrare? Sì. Vado. Ed è la magia di Cristal Radio. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5-5. C'è appena arrivato il Whatsapp di Alberto che dice abbiamo dei microfoni da dargli. Quindi arriveranno dei microfoni, cari amici di Smonting. Mazzati deve andare a fare una festa? Ah ma c'è Lisa oggi. Sì, ma guarda come è vestita. Deve andare ad un aperitivo? Che è successo? Vado. E allora appunto, grazie ancora agli amici di Smonting, grazie un po' meno a Lorenzo Masieri. Grazie ancora meno a te e Fabio. Grazie. Ci rivediamo lunedì. Ti chiudo il microfono, basta. Prova a parlare adesso se è capace. Non mi so. Anche non mi so. Dai, ci sentiamo lunedì allora, va bene? Sì. Lunedì, sempre qui, dalle 7 alle 9 su Cristal Radio, FM 96.2, Dub Plus e tante tante altre situation, tra cui il non amato Twitch di Lorenzo Masieri. Invece venite su Twitch che ci vedete anche e adesso, tra pochi minuti, di nuovo su Milano News potete rivedere tutta l'intervista, tutto quello che abbiamo fatto, i nostri sketch comici, insomma tutto quanto, tutti i giorni dalle 7 alle 9 su cristalradio.it. Buon weekend, ciao a tutti.